Dance like there's no tomorrow Siamo sonoramente stati bastonati da Mono Rosso Agro che è giustamente Agrato Buentornati a tutti nel nuovo video di me stesso Volevo fare una presentazione un po' così ma fa niente Sono Flavio quindi prima di iniziare come sempre vi chiedo un like sulla fiducia Se vi piace quello che faccio perché già invece mi conoscete Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati E magari fate un commentino tattico su che mazzo volete vedere giocato in Pioneer o in Pauper Perché questo mese ci concentreremo su questi due formati Comunque siamo sul play per il terzo game della League Che sono appunto 5 game Siamo 1-1 abbiamo perso da UR Questo è Control Abbiamo perso da UR e abbiamo vinto da Non mi ricordo neanche più da cosa Da Humans ma sono molto molto interessate Che ho anche già portato Questa mano non mi fa impazzire contro Control Quindi la miullico Questa mi piace già di più Insomma però Vabbè Mi tolgo una Treasure Cruise Per ora mi sembra un po' presto per avercela Vai Parto con una terra tappata Sì potevo partire di Steamvent tappata e fare Steamvent Riverglide Into Storm Che Ah Allora non sei Control Cioè sì probabilmente sei Control Però niente ho sbagliato Allora Ho sbagliato le mie Supposition Vai di Legger Shredder Vai Tra l'altro non ho mai la possibilità di fare due spell Con questa Con questa mano Quindi auguroni a me Ok Cosa sei? Band Control Diciamo anche questa Adesso mi fa una vratta Mi spara su Marte E io riparto con mezza Fenice Perché Non ho modo di mettere il pro Prossimo turno non posso fare Fenice L'Allegra Fenice Direttamente dalla mano Che non è un piano da sottovalutare Fa schifo con Thing in the Eye Se è però Se quello ci propone di fare il mazzo Presente stiamo giocando draft brutto Abbiamo fatto un 1-3 volante turno 2 Che ci può anche stare 1-0-4 muro a turno 3 E poi faremo un 3-3 volante 3-2 volante a questo 4 Comunque i volanti in draft non ne sanno Adesso Beh Teferino non c'è nel formato Quindi insomma Narsettina amica cara Cazzo Narset Proprio Narset Vabbè la uccidiamo di Fenice Dai Tra l'altro continuiamo a non pescare mezza spell Quindi Non vedo dove sia il problema Fenicia Amicia Attack Niente sto giocando widget spell Senza le spell Vai pure tocca a te Cosa hai preso? Niente Hai missato di Narset Ok Lui è ovvi control Con lo splash blu Per boh Ok Quindi occhio a farewell Che ci manda Sono un po' su Marte Possa Abbiamo delle carte Molto molto forti Main deck Non mi sento Particolarmente favorito Considerando anche il fatto Che ho tirato 0 spell E giustamente Mi ha tirato un verdetto E ci ha mandato sulla luna Ragazzi io capisco Che io ho mulligato Tutto quello che vuoi Minchia Possiamo pescarla una spell Così Per sapere Che qua mi arriva un counter Su qualche spell E siamo rovinati C'è tanto spell 16 volte non tu Eh ma non ci sta Secondo Narset Ho tanta carte Lui che vede Le cose da fare Io No Va bene Ok Beh Questa almeno Sta fuori Da quel cessone Di Narset Facciamo Galvanic iteration C'è anche questa Riusciamo a vedere Una strangle Ok Vediamo 10 carte Cazzo Una strangle La vedremo Questa fa danno A crea Etura Allora Qua posso prendere Una opt E uno Si fa schifo Sta cosa Io vorrei vedere Un removal Per Narset E tra l'altro Abbiamo girato Zero Fenici Ma davvero Dai Ma Flavio Ti sembra il caso Vabbè Qua faccio play Faccio opt Per uccidere No Devo fare consider Perché se in cima C'è una fenice Adesso io mi tiro Una testata Nei denti Da solo Vabbè Almeno non c'è quello Va bene Faccio scray giù Giro fenice Dal cimiterio Una Via Narset Il prossimo turno Prova ripartire Beh Sharkstyphone Non mi stoppa Fenice Perché lo fa da zero Ok Questa E se ritrova Fairwell Tra l'altro Ci manda su Marte Perché abbiamo Spell Pierce Non attivo Però devo togliere Narset Per forza Perché se no Non faccio niente Certo mazzo Fa schifo Con Narset In campo Qua un bel F6 Lui prima ha trovato Vabbè Una Una Growth Spiral 4 C A che cosa Sei tu Mi sto Leggermente Preoccupando Tra l'altro Se si tap out Abbiamo L'opportunità Di riprovarci Perché abbiamo Un altro Pezzi Del puzzle E Dato che Abbiamo girato Zero Fenice In dieci carte Nelle 39 Che ci restano Magari Qualcuna Nelle prime 5 La troviamo Tanto la peschiamo 100-100 Adesso Però con questo mazzo Peschiamo talmente Tanto Che Magari Qualcosa Riusciamo a fare Lui due Narset Ce le ha tirate Lui e Narset Le abbiamo risolte Vediamo Mono Galvan Praticamente Abbiamo ottenuto Tirando L'unica spell Che avevamo in mano Ci siamo rifatti Tutti Dai Va bene Forse devo fare Una di queste rossa Oppo Ai 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 Signor Oppo Toccatico Ora Una due Cioè Oh bravo Ma non fare delle spell Eh Ah ma lui è tipo 4C fires E adesso Mi arriva un fire Minchia Un omnat Ok omnat Però ho già fatto la terra Quindi non guadagna le vite Attenzione Ah beh sì Giusto Growth spiral Hai fatto bene a farla adesso Perché sennò ti prendevi Uno spell pierce Sui denti E ti sentivi Anche un po' stronzo Allo Questa è molto 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 carina Allora noi qui possiamo fare Un consider Perché mi fa comunque Un mana per Treasure cruise Mettiamo al cimitero Shard a course Qua possiamo fare Galvanic iteration Pesco 6 Sì però Zio Se non pesco Niente di forte Allora anche perché Tremana mi partono qui Forse mi conviene fare Pezzi del Puzzle E vediamo un po' che salta fuori E prendiamo un light O comunque ancora 0 Prendiamo una lightning axe E una certa course Credo che vadano bene Scarto una carta E lui dirà Ah minchia mi scarto una fin Aspetta Noi dopo vogliamo fare spell pierce Con lui che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No Credo che adesso possiamo Permetterci di fare una treasure cruise Perché magari Peschiamo una seconda finisce Ma magari E ce la scartiamo Di lightning axe Oh bravo Flavia Terra Qua Pagorosso Scarto te E attacchiamo per 6 Lo mandiamo a 10 Certo ci abbiamo messo un botto Con le nostre simpatiche finicioni Detto che tra l'altro Ci fa un Un ferro Vabbè noi abbiamo la terra Vai pure Tocca a te Spell pierce Era bello il turno prima Adesso fa un po' schifo Micchia adesso Tira una spell da 90 Cioè tipo che si tappa out E io Perdo per quella Farewell Tra l'altro 4 5 Ma si giocherà in quei mazzi Cioè le creature le ha 4 cigli or in control Carino Che poi Sì Manca solo il nero A5 Era spell che voleva tirare prima Ma poi ha fatto Il simpatico Comnat Cosa ci sta per arrivare Io non conosco questo formato Ma secondo me è un'incognita Vabbè lui in realtà è Iorion No non credo perché gli manca il nero Ma va bene Ti dirò Non credo sia io Eh scusatemi Non credo sia Nivmizet Allora vediamo Se io posso ucciderti Provo a ucciderti Lasciandoti Quella bella terra in ali 8 Ok Non credo Facciamo Sharta course Scarto Sharta course Una Due E gli tolgo la terra Con Strangle Qua Beh Attacco per 9 Credo che sia meglio Attaccare per 9 No E little Ok Vorrei andare in Big in combat E ho lightning axe Per un Come cacchio si chiama Quella carta Che fa i token Squalo Abbiamo capito Vero 1 2 2 3 4 5 6 Va a fare No Attenzione L'ho uccido comunque Pure si fa uno squalo da 6 Ma chi se ne fote Si va bene Che grosso Scarto una carta Becca Attacco per 9 Cazzo Siamo proprio bravi Bravo Flavia Non male Non Ha fatto Cazzo male Allora Poi diciamo Doppio di Stainful Snotting in the ice Ho detto Doppio di Stainful stroke Ma Credo che Etergast Non si ha mai Questo matchup Lui Prende Nissa No Ho visto solo Nissa E allora Già lo prendiamo Con desiderful stroke Però Mystical dispute Non mi sembra Malissimo Secondo me Può andare Sopra Spell Pierce Togliamo Un tempo L'altra Spassa Ho paura Che il cimitero Ci venga Tassato Togliamo Una cruise E una fenice Allora Lui ha Le vrate Quindi più romante Anche perché Sono incounterabili Le sue vrate Quindi un po' Sticates Andiamo a mettere Doppio Jace Lava coil È ok Perché toglie Anzi Mettiamo un altro Perché va a togliere Il suo Simpatico Amico Ovomnat E spikefield Hazard Adesso ci ha fatto Vincere una partita Ma è una spell Ridicolmente stupida Contro di lui Ma Un turno Non mi dispiace Lasciarlo Perché se non Vede resti in peace O se riusciamo A pinzarglielo Con Però Tutto No 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 Non sto Sai dando dritto Allora Le titi Sono buone Abbastanza Forse posso togliere Galvani Kitteration Rimettiamo Monospell Pierce Togliamo Strangle Che non credo Sia pazzesco E fire impulse Per mettere Un altro Pierce E proviamo a mettere No però Secondo di questo È pesantissimo Proviamo a rimettere Questa Lui potrebbe Un pezzo Artefatto Questo è ok Perché toglie Queste tre Queste cinque Sono ok Perché toglie Fire impulse Però non mi piace A sto punto Rimetto Strangle Che prende Prince Walker Con cui posso togliere Narset Che fa un giro O Narset O Boh Una terra di Nissa Insomma Una roba di questo genere Mi sembra già un po' meglio Allora Questa terra Questa mano è bella Perché pesca Io la tengo Perché ho tre peschini a uno Siamo sul draw Vedrò la seconda terra Morirò dopo aver detto Questa frase Chiaramente Vedrò la seconda terra Morto Ok Pesca E infatti Play di questa Vai pure Tocca a te Cerchiamo la seconda terra Sul passo E poi Facciamo una TT Nel nostro Beh Lui ha una mala base Brutta Questa partita Facciamo un opt Un consider Consider Aia Oh Bello Bello Voglio metterla No Voglio pescarla Che domande di merda Sono Mai stappo pesco Titi Prego Tocca a te Oh Mystical dispute Azz Wow Va bene Ci faremo i nostri peschini Per fare altro Allora Azz canta Ok Ma Facciamo Pezzi del puzzle Poi Secondo me Praticamente Tapped out Per questa Entra tappata Prendiamo Lava coil E lightning axe Abbiamo messo il cimitero Una simpatica finice Che non è male Abbiamo un'altra in mano Abbiamo una treasure cruise Insomma ok dai Se lui adesso fa anche Omnath Gli muore Quindi non credo Che lo andrà a fare Perché sarebbe un po' Brutta Certo Non togliamo planeswalker Perché fa Creature Ah E facciamo una TT Prima ti ha dato molto fastidio Vediamo se riusciamo a toglierti Qualche carta dalla mano Non te ne frega più un gazzo Sono un po' triste Forse devo fare il peschino qui Ok Sì perché è mancato il land drop Devo fare il peschino Però voglio tenermeli Per fare il turno In cui farà qualcosa Lui Presumo E io posso Pensare di fare opt Beh io qua posso fare Delle cose Eh hai rotto Ah Perché noi abbiamo in mano Mamma mia Ok Ok Non bene Posso fare scry Oh che palle Facciamo opt qua Cerchiamo un Removal Per successo Ok Anche perché poi Mi spegne veramente tu Ah che palle La metterà giù Otawara Otawara è un removal Non mi serve un'altra terra Perché tanto Quell'altra non andava bene Perché era tappata Certo che Che sfiga Ho tanta carte E Boh vai Abbiamo disputo Open Se fa home Nataglio Pinziano C'erano più Strangle Per questi matchup Dove c'è Narset Cioè per control Mi sembra meglio Che palle Dopo facciamo Un bello opt A fine turno Se fa una spell qua Magari no Vabbè Zì Cioè Ho visto Cioè hai visto Che ho preso Mystical Dispute Non mi sembra Una mossa della madonna Posso? Ok Pesco Un altro Mystical Dispute Che culo Vabbè Questa Spegne Narset Però Che vuol dire Che poi abbiamo La mano open Per fare Treasure cruise In two cose Quindi accetto Di rischiare un turno Lui ha quattro carte in mano Non sono proprio poche Però almeno Vai Eh qua Shield down Per un turno Fammi Vratta Ti prego Sarebbe un sogno Perché poi Tanto facciamo Cruise Opt Non lo so Tre Quattro Cinque Venti Settanta Oh ma Minchia è semplice L'hai Meno mai che ti spacco I pezzi Però Allora Qua noi possiamo partire di tre Giure cruise Una Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Pesco tre Messica Ah dove Inserimento Facciamo Opt Jace Ci piace Io lo lascio sopra Però vorrei La terra No non mi serve la terra in più Perché tanto lei muore E la sua terra pure Non mi ho ricordato che questo era Attiva Tanto noi facciamo Lightning axe Che scarta Lightning axe Ci teniamo Open dispute Va bene Lightning axe Scarta Attacco Questa Tu perdi Doppio pezzo Axe Un po' sopra Va bene Fatto dove In vetro lì Begin combat Always Sealed Vai E quantomeno L'abbiamo fatto Stone rain E l'abbiamo fatto Tornare un po' indietro Dai vai Abbiamo mystical Dispute open Lui di questo Mystical non sa niente Perché sapeva Dell'altro Ma non gliene frega Un cazzo Vabbè questa si Ti giuro che Non te la tasseremo Mai Però non peschiamo la terra Dopo quindi Più che Jace Così a secco Farò Un ottimo Certo Jace E la mia chiusura Se andiamo lunghi 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 Comunque abbiamo 33 carte Nel mazzo Non è che ne abbiamo 100 Quindi Fosse commander Sarei sereno Ok Ok Qua Facciamo un ottimo Certa course Per cercare Una terra In più Pesco 2 E non vedo un gaz Ah strangolo è figo Lui può fare Un pezzo da 2 Però non è che Mi faccia proprio Dolore Fisico Però Shredder Mi piace meno Attacco per 6 Vi tre carte in mano Io ho un counter Solo open Perché non riesco A pescare le terre Vai Abbiamo allora Fatto per lei Comunque preferisco Giocare due turni Con due counter open E vediamo un po' Che capita Minghia Mystica di spiuta Ok Questo è un problemone Sappiamo che ce l'ha Tiriamolo Lasciamolo lì A 2 Fai growth spiral Va bene Ah che palle Va bene Perché è abbastanza inutile Giocare uno dei miei Counter sopra un suo Mystical dispute Quindi a questo punto Aspetto il mio Gli faccio l'avacoil Sopra Mystical dispute Suo non funziona Io avrò ancora I counter open Non è una bella carta Da versi contro Però Poteva andare peggio Poteva piovere Ricordiamoci che noi Comunque abbiamo in mano La risposta Cioè una chiusura alternativa Terra Quindi va a 14 Chiudiamo in 3 A questo punto Facciamo mystical dispute Su questo Per non fargli fare I mana Lava coil Terra tappata Che tanto va bene Sempre uguale Arrivata con 7-8 turni Di ritardo Attacco con 2 Fenici Ha sempre quel mystical dispute Lì che balla Però 1-2-3-4-5-6-7 Tra l'altro Quindi anche se dovesse Fare Farewell Non va proprio benissimo Prendo Jorion Faccio terra Jorion Lui pensa che Noi siamo Stronzi Ok Buona Che ha giocato male Magari non ha niente in male Della nuica che aveva Però ci è andata proprio Proprio bene Qua posso permettermi Di farlo Perché se Non gioco play with fire Quindi non posso pescare Niente di che Però Questa non è male Mettiamo il cimitero Facciamo questa Attacco per 6 Vai Tocca a Tigo Io ho 2 Fenici in 23 card No forse una Ho sedata fuori Ho una Fenicia In 23 carte Dismiss So che ce l'hai Che palle Veramente Se ci fa terra dietro Così è da strombi No Non aveva terra dietro Secondo me C'è approvato Ma no Tanto anche se fa terra dietro Senza rimuola L'abbiamo vinto Non ho guardato i suoi punti ferita I suoi punti vita E i suoi punti cose Buona Ci portiamo a casa 2-0 Contro 4 Uccigliori Non gioco tante carte Che sono forti Ma probabilmente insieme Non tutte bene Tra l'altro non le gioco Neanche giuste Però ci sta ogni tanto Perché anch'io sto provando I formati E sbaglio Quindi Ok Più che onesto E ci muoviamo Verso il terzo match Devo dire che Tolto il mio match 1 Contro Monoday Dove Credo di aver side dato Un po' così Ad cazzo Bene Bene Il mazzo Mi sembra essere Molto molto Bello Da giocare Devo dire divertente Quindi Siamo super tranquilli Che La cosa continuerà A migliorare Il prossimo match Lo perdo Cazzo Quarta partita Sempre sul play Ormai Cioè Inizio una botta Di partite Non posso mai più dire Non potrò mai più Essere uno di quei player Che dice Che palle Non venco un dado Perché ci sono anche Le prove video Che è una cazzata Qua partiamo di Il mio piano qui È giocare Ledger Shredder Bello Quindi molto bene Peccato non averli più foil Perché Ho finito Il token Della VOT Qui Qua partiamo di Questa E andrò Di Ledger Shredder Vai pure tocca a te Bella figurina comunque Ledger Shredder Cioè In questi formati Mi piace molto Perché è una figurina Ok In modern È tutto troppo rompibile Quindi una carta Con un povero È il buono Come Ledger Shredder Cazzo Si può distruggere Un secondo Questo è un V secco Secondo me Questo è un V A 60 Che non è Proprio un matchup Della madonna Secondo me Facciamo la terra Facciamo Tau Consider Leader E la mettiamo Al cimitero Perché è troppo presto Attacco Con ben Uno Tra l'altro Ho pescato la terra Sbagliata Da pescare In questo spot Vabbè Abbiamo un strangle Quindi se dovesse Farci Narset Quanto meno Abbiamo una risposta Chiaramente Questo verrà Conterato Io farò Una terra Tappata Ok Immaginiamo Che sarebbe Successo Però Ho Chiaramente Una mano Più forte Contro Agro Che contro Contro Perché ho Zero Interazione Cioè Zero Peschini Per ripartire Ho soltanto Dei bei removal Grassissimi Che non servono A una Ciippa Di nulla E niente Faccio Seconda All of the Strong Giants Ti attacco Di uno in uno Ci mettiamo ancora 15 turni Dopo questo Quindi Se lui qua Memori dell'Age Tra l'altro Prende un vantaggio Clamoroso E io non ci sto più Dietro Ma eccolo Lui va a 7 Io vado a 4 Con 3 carte Inutili In mano Molto bene Non mi sento Favorito In questo G1 Ma Non si sa mai Neanche prima E neanche quella Prima ancora Quindi La vita Ci riserva Delle sorprese Non credo Se continuiamo A pescare così Attacco Se Concedi Perché effettivamente L'ho giocato Dentro il suo Wandering Game Come un bastardo Come un bastardo Ma potevo Leggerla Abbastanza Adesso Vabbè Fa niente Beh Non ho Niente Ho pescato proprio Brutto Brutto Doppio Jace Spears Dispute Doppio Stroke Lui ha Le fratte Quindi Ma Che però Non sono fortissimi Contro di noi Però dobbiamo giocare fuori Dal fatto che lui Mesta Rest in peace Quindi comunque Le soluzioni alternative Ve le metto un po' tutte Galvanica Va bene Questa Secondo me Possiamo fare Togliere Questa Qui Lightning Axis Mi fanno Un schifo E I Fire Impulse Lava Koi Che pezzi Può avere No Secondo me Così è un po' Meglio Vediamo Ho tolto Tutti i removal Del mondo Tranne quello lì Che piglia PV Quindi Sarà una buona Idea Sarà una cattiva Idea Sarà un'idea Pazzare Meta domande Meta domande Quindi Di nuovo sul play Perché abbiamo perso Quindi scegliamocelo Vabbè È un po' meglio Abbiamo un'interazione Un peschino Quindi insomma Praticamente stiamo giocando Mono blu aggro Tra l'altro Ho fatto terra stampata Ma Non credo di voler far Moltissimo Allora Beh oddio Però forse opto Per cercare di Prendere la terra Dai sì Facciamolo Brava terra Che sei spuntata qua Facciamo shredder Però è che con shredder Giocato così Rischiamo un po' Di andare sotto Portable Hall Ma Credo anche che stare indietro Paghi più lui che noi Allora Lui non fa Niente Noi facciamo terra Stappata Attaccheremo Noi Tra l'altro abbiamo sempre Una mano Con dei Dei drop Altissimi In questa partita In particolare Quindi parto Sì ma posso dire Che pesco male Ok sono ancora un giocatore Che ha delle scuse Per cui può affermare Di essere Bravo lui Di essere Scarso Cioè nel senso Di sfigare Il prossimo turno Facciamo Jace Con Eh Lui potrebbe avere Dovins Veto Quindi secondo me Ci viene fare Fenice La Fenice Amicia Allora Questa gioca sotto Vrattac Vrattac Questa no Pezzi del puzzle Secondo me Pezzi del puzzle Però dai Sì Pezzi del puzzle Se lui Absorbi Lo pinziamo Oh minchia Sempre Veto Ma che cosa Di cosa siete fatti Di culo Vai Beh 60 carte Comunque ci sta Che veda tante più risposte Di me Cioè Tante buone risposte Facciamo questo Non riesco mai A far triggerare Con knife Comunque Pazzesca Sta roba Questo matchup qua Davvero che Non ho visto Tanti peschini Quindi boh Magari quello Spell Pierce Salve L'ho fatto triggerare E non ha messo il segnalino Però va bene Ma questa l'avevo vista Giuro eh Infatti ho detto Vabbè Gioco con Spell Pierce Open 4 a te Vai pure Non ho più Un'interazione Neanche Se ci Prego Però il mio piano Adesso è menargli Teferone No Marcia Vabbè Io lo faccio Mi agisco Che cazzo Sembra un piano No Io macino Facciamo questa Metto il cimitero Questa Un po' di roba Ce l'hai da risolvere Dai Adesso faccio fratta Poi tu ne do Teferone E ho vinto Che ci sta Adesso Però credo anche che stare indietro Veramente mi punisca In una maniera Farewell Toglie anche i planeswalker Farewell No per sapere No Uh Shark Typhoon Minchia Buongiorno Allora 6 a 9 9 non è tantissimo 7 e quelli E siamo a posto Potevo fare iteration Più iteration Più una spell a caso in mano Vinto Ok Quindi questa ce la portavamo A casina ragazzi Ce la siamo portata A casina casuccia Molto 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 soddisfatto Di questa cosa Allora Prima volta che siamo sul draw Ho due peschini Leggio a shredder Io kippo Lui mi farà Terra Cazzo Non so Terra Rest in peace E già Treasure Ce la tiriamo qua In destra Terra tappata Vai pure Tocca a te Bella E la mana base Di questo URO Raga È incredibile Non ti fa male Cioè Sono contento Parte G1 Che abbiamo un po' sfigato Però stica Io qua vado Shredder Scusatemi Se sono ignorante E non calcolo le probabilità Ma voglio andare a shredder Per mettere un po' di pressione Magari qualche trigger Di corn knife Tra l'altro Ce lo tiriamo pure In questa situazione Ma io credo che no Però non ha fatto un arset Cosa positiva Molto più negativo Il fatto che faccia marcia Però Insomma Scartiamo Le terre Vorrei continuare a hittarle Credo di scartarmi un consider Vai Possiamo fare consider A fine turno Perché vogliamo fare Un turno dove tiriamo Pieces Più Cruise Luigi canterà Uno dei due Ma l'altro E' comunque forte Facciamo Titina Ah Due blu Lui Adesso Scegliamo Ricordiamoci sempre Con molta attenzione E molto riservo Che lui può avere Cioè è molto rispetto Che lui può avere When the game will absorb C'è un opt con lui in pila Che tanto chi se ne fotte Mettiamo giù Che tanto ho ancora la terra Pesco un'altra terra Va bene E vai zi E che No 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 Porca Una due tre Quattro cinque No no Va bene Non potevo farlo Ok Allora This is the turn Where I go Pezzi del puzzle Lui va Counter Counter spell Ora Scopriamo se ne hai due Dai minchia Doppio vetro Però sei proprio Pezzo di merda Va bene L'hai fatto Quanti counter Potrai ancora avere Che io dopo Ho anche Jace No 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 Però Jace ho paura Ho veramente Troppo a porre Dei counter Forse potevo aspettare Un turno ancora Absorb Terra tappata Vai Mamma mia È foderato Comunque Sì Pesco Una due Tre quattro Cinque Sì Quattro Missica Dispute Sì va bene Vai Vai Vediamo Tre carte Negli ultimi tre turni Mi hai tirato Quattro Counter Oh le Macino Pesco Cos'è Wandering Emperor Eh ok Non è bello Non è bello Poteva essere peggio Legger Shredder E vai pure Mi sono mangiato pure lui Non proprio bellissimo Vabbè Tre possiamo prenderceli su qualcosa Io dopo attaccherò col mio 77 il suo 3 3 il suo pv però Eh povere marcia che non sarebbe fantastica ma proprio per non nulla Io macino L'altro è meno 8 Ok ma che palle Allora Facciamo Terra Tu Credo di poter tenere dietro Shredder per salvarmi il pezzo Vai Vediamo Minchia veramente marcia Abbiamo brideraggio va bene Vabbè questo è world 3 no Quindi secondo me il mio Jason un turno in più ce lo fa Beh Delage buono comunque Beh tanto adesso Shredder para E poi Allora la sua terra si anima come la mia Uguale A 6 1 2 Oh che palle Va bene Adesso anima Ci ammazza Jace Poi dobbiamo ripartire Non proprio facile Decisamente non facile Oh cazzo Qua ci togli Shredder Attacchi Però poi vuol dire che Tu teferi muore dalla mia terra Tu non lo sai ma in realtà muore dalla mia Fenice Che 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 Complesso Comunque Sì Allora Noi qua Noi qua Mettiamo una carta al cimitero Oppure no Eh si Peschiamo Peschiamo Shredder Facciamo Fenice Che non fa triggerare con Knife Chiaramente Ma dov'è stato tutto fuori da dove in veto Gli ammazziamo Gli ammazziamo teferi E lui ha due carte Però ha delaggio al cesso Non è proprio simpa Questa cosa Vai pure Tocca a te E vedi Abbiamo recuperato le carte che ci aveva fatto perdere con Teferi In buona sostanza Non è stato un turno della madonna Abbiamo bisogno di pescare tipo Treasure Cruise Però Mica Quei turno dove abbiamo tirato Quattro spell in fila forti E aveva Quattro counters Due li ho pensati Al terzo già ero un po' preoccupato Nessuno Bruttino Se posso permettermi Non capisco Io ho zero in mano Cioè non è che hai tutta la fretta del mondo Di tirare sto delaggio No Ah non vuoi pescare Pierce Non vuoi farmi pescare Pierce Tra l'altro non ho visto neanche un counters Peschini ne ho visti Uno Due Tre Un certo accorso Peschini ne abbiamo visti Abbiamo tirato fuori una Cruise Che forse forse sto pentendomi Di quello che succede Di la mia scelta Del cazzo Quasi cominciasse a pescare Peschino che vede Peschino Ma Peschino c'è Intanto No Non animo la terra Che un po' mi spiace Se devo dire Lo pesco scarto Per forza Va bene Cruise Oh la madonna Che bravi che siamo Facciamo Cruise Una Due Tre Quattro Cinque Sei E sette E Ci reanimiamo anche una fenice Questa cruise Ma che bella Credo di fare E tenermi Doppio Dispute Open Cazzo Però Pi romante E torno dopo Si va bene Sto turno attacco con tutto Vai Tocca a te Perché ho paura Perché ho paura di questa 1,2,3,4,5,6 C'è da dire che andrebbe tapped out Quindi non credo lo farà Se qua mi fa Se qua mi fa fratta Eh sti cazzi Posso dirlo L'ho detto Ormai l'ho detto Cosa vogliamo fare? Sì Un mazzo molto molto interessante Finici Secondo me Urgatrota Veramente Vabbè Ok Non creature Quindi io poi posso fare Piromante Più pezzi del puzzle Oppure Piromante Più strangle Che non è male E mi mette davanti i token Per questo Tengo pezzi del puzzle Per dopo Con Nivu Tra l'altro Con Nivu Via Un mystical dispute Vai Il problema è che lui Non ha ancora fatto La sua spell Non creatura Quindi potrebbe Tranquillamente Avere una Wandering Emperor Ma Noi ci abbiamo Dentro un pochettino E che cazzo Ce l'aveva Non ce l'aveva Sono molto contento Tengo in mano Secondo Shredder Perché Non voglio proprio Morire del tutto Da ratta Vorrei una ripartenza Dato che qua C'è Fildo Fruin Che adesso Viene attivato Vabbè Non è anche più Le lande Perché ho Un'isola Una sommacinata E va bene Scusa Stappo Pesco Vratta No Vabbè Ce l'ha concessa Così Secondo me Inutilmente Nel senso che Potevamo Tranquillamente Mi sono perso Mi ha finito Le carte nel mazzo No Perché non pesca Neanche No no Ha proprio concesso Non so perché Vabbè Ultimo match Trovato A una velocità Supersonica Quindi Andiamo subito A vedere Contro cosa Giochiamo Ciao Blue Duck Sono ancora Sul play Devo ammettere Che la chiappa Tonante Sui dadi Oggi Giganta Può essere tipo Sacrifice O removal Più peschino Più tripla Finisce Tripla Finisce Non proprio pochissimo Però Il turno 2 Possiamo fare Già certa corso Per settare Un turno a 3 Buono Dato che abbiamo Un drop a 1 Mi sembra una mano Che si possa andare A tenere Questo commento tecnico Ve lo regalo Così siete contenti Ok Play Non è a pagamento Come tutto il resto Del canale Non lo sapevate Ok Beh abbiamo pescato Una terra Quindi dopo Possiamo fare Una terra E un removal Su una carta Che non sia questa Rackdor sacrifice Altro mazzo Che vorrei provare Però Non gioca più Mi took massacre Da quando gioca giganta Non metto in dubbio Che ci siano Un sacco Di lati positivi Per giocare giganta Perché una volta L'ho detto in modern Sono stato Mangiato vivo Però boh Allora Io qua posso fare Un'altra certa Corsa Vedere giusto Cosa pesco Scarto un'altra Finisce Lui Lui lo devo togliere Adesso Per forza Perché dopo Potrei fare Consider Lightning Axe No mi mangio Un sacco di cose Ma oddio Posso mangiarlo dopo Tanto adesso Posso fare Consider La fine turno E vedere cosa succede Che tanto Non rianimo Le finisce Adesso ho fatto Una spell sola Vabbè Prendo 4 Z Presa Com'è che faceva Giovanni Vernia Che ricordi Da Boomer Ok Sì La favoletta Di Kiki Jiki È già un target Migliore Per questa Lightning Axe Credo che Considerlo Farò Comunque nel mio Azz Aspetta Un momento Un momento Un momento Però Questa cosa Muore istantaneamente Allora Facciamo Axe Scartando una carta Io ti tolgo Te Tanto lui Cosa dice Prende Il doppio Di token Ok Scarto qua Lui con Niva Scarto Questa Che non è bellissimo Però In teoria Sono due danni Ok Facciamola così E Il turno dopo Mi setto Per fare Un turno Grosso Allora Scarta Due Se prendo Scartino Su Treasure Quill Sono triste Però Non sono così Sicuro che Le liste Di BR Sack Giochino I 4 Tozzi Ma in deck Come le liste Di BR mid Non lo so Non so se c'è Calite Non credo O poi Magari mi fa Una grandissima sorpresa E giochi Tozzi E io Un po' Sono triste Ma fa un danno Lì sopra Sì Vabbè Vabbè Ok Voglio dire Ok Come scambio Una carta in più Per Treasure Cruise Mi riporta Tripla Fenice Siamo quasi Contenti Più o meno Allora Partiamo con Un simpaticissimo Consider Che vede un simpatico Removal Per questo cesso Mettiamo al cimitero Perché la terra Comunque mi servirebbe Stappata E che palle Cruise Anche una terra Va bene 1, 2, 3 4, 5 E 6 E 7 Salve Vabbè Consider E tengo Open Spell Pierce Mettiamola al cimitero Pesco Abbiamo tirato Tripla spell Giusto Prima di fare i calcoli Sbagliati Consider Treasure Cruise Consider O lui Sild Salve Attacco Con tutto Proprio Dopo dobbiamo togliergli Dei pezzi Perché insomma Però che lui è a 11 Non è a 197 406 Virgola 2 Mazzo Molto 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 Fico Devo ammettere E' più complesso Di quello che pensavo Nel senso che Continuo a pensare Sia un ottimo Ingresso Nel formato Perché ti da Tante interazioni Ma E' difficile La gestione Del ritmo Della partita Anche per me Che amo Questo tipo di mazzi Posso immaginare Che lo sia Per un sacco di player Che si avvicinano Per la prima volta Al formato Quindi Bello Imparatelo Non so Non so se ve lo consiglierei Come primo Mazzo Però Sti cazzi Poi magari Invece Siete fortissimi Subito Quindi insomma Vi ho detto Un sacco di cose Inutili Tanto sto prendendo Appunti Su come fare I cose I video Per le cose Dopo Allora Noi possiamo fare E non abbiamo Removal Dritti In faccia Per lui Allora 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 Io vorrei vedere Del removal Ma anche un blocco Non è male Quindi faccio Questo Posso decidere Di fare Thing in the ice Così Il doppio blocco Credo che sia Pi safe Fare così Che Mi scarto Spears Se non vedo Terra Ok Scarto Una treasure Cruise Credo di volere Doppio blocco Dietro E forse Forse Attacco Addirittura Con solo Doppia fenice No Lui può farmi Push qua Però questa è una cazzata Ho sbagliato Ho attaccare Comunque con tripla fenice Per essere letale Turno dopo Con doppia fenice Perché se lui Qua fa Scarto O Sacco Qualcosa Più push Io non sono più letale Il turno dopo Quindi questa è una cavolata Avrei dovuto attaccare Con tre Comunque A prescindere In realtà Comunque così Sono letale Con doppia fenice Ma C'è da dire Che sono a dieci E lui Avrà giù Doppio Meme Devil Che non è proprio Simpatico Si è girato Familiar Problemone Stiamo a nove Non ho visto removal Forse avrei dovuto fare Pezzi Ok Ok su quello Mi tolgo Spell pierce Perché tanto è inutile Ok ho doppio pezzo Dietro per parare Vai Quindi aveva push Ma l'ha pescato Di dispute Forse io l'avrei fatto Su una fenice Però magari vuole togliere Uuuu Triplo Sono tre danni Quando muore E tre danni Quindi sono già Sei danni Presi No sono morto Avevo un triplo Sono morto Perché lui Sacca questo Sono otto Sacco sacco Sono tre sei Nove Tre sei Ah no va c'è anche lui Va bene no Niente no Così siamo Iper Ultra Mega morti Dovevamo andare a cercarci Un removal Quindi Consider No No Fire impulse Eccolo qua Dovevano togliere Probabilmente aveva tolto Lui ne aveva comunque Due Forse morivamo lo stesso Però comunque era la giocata Più giusta Da fare Abraid Lava coil Doppio piro piro Non mi dispiace Ethergast Per togliere i diavoli Abbiamo detto Temporate Lui credo che abbia Del late per il cimitero Tipo la runa Quindi Tac Tac E una treasure cruise Le fenici Non mi dispiacciono In realtà Spikefield Azzard è ok Perché può togliere il gattino Ma però Una finice I turni li tolgo tutti Non mi stanno facendo impazzire In questo In questa partita Non credo siano Pazzeschi Strangle Lightning Spell Pierce Spell Pierce Non mi dice Moltissimo Moltissimo Poi magari è forte Perché Prendi Parto io E prendo Forno Subito Però Tolto quello spot Lì Boh Fiava È l'unico Però è uno Per Tra l'altro C'è l'ho L'umuligo Ok Allora Questa è la kippo Doppio piromante Secondo me Può fare Molto bene In questa partita Voglio tenermi in mano I miei Troppo a uno Per fare piromante E vai Ma forse uno Potevo giocarlo Potevo giocare Fire Impulse Sul suo pezzo Se me lo fa adesso Ok Tootsies Cosa mi toglie Tootsies Ah Il removal Sì beh Lo ripesco Perché c'è il bug Di Tootsies Sul mtgo Quindi insomma Ci va anche bene Vorrebbe scare una terra Dopo il bug Di Tootsies Per favore Sì Ma funziona anche Su se stessi Perché sennò Va fortissimo Ok Vabbè Se lui sbaglia Rimane poi Senza più Gatto Facciamo questa Attacco Se vuole tradare Io ho il secondo Dei miei Simpatici Sciamanini Ma io credo Che lui Non traderà Per avere il token Infatti L'unica speranza È che se lo riporti A fine turno In maniera tale Da rimanere poi A portata di removal Cosa che io Vi sconsiglio di fare Tra l'altro Contro un mazzo rosso Bravo Che non l'hai fatto Però un po' stronzo Potevi Tra l'altro Il nostro fiery Toglie Il suo Mayhem Devil Quindi molto 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 interessante Sei Tra l'altro Azz Posso dire Azz Bravo Allora bravo Cacchio Bravo bravo Forse è il momento Di droppare Il secondo Young Piro Piro Più che fare Certa course Non è vero Perché noi Non abbiamo Il secondo rosso Vai Mamma mia Via fenice Steel No Secondo rosso Ma lo andiamo a cercare Facendo il board Qua Perché se no Mettiamo il cimitero Vabbè Niente Doppio rosso Basso Non attacco Perché tanto Lui ha un bel blocco Mi mangerei Soltanto un token Non ha molto senso Prossimo turno Possiamo fare 1,2,3,4,5 Vediamo Cosa riusciamo a fare Due carte in mano per lui Più gigante da prendere Vai Lui gioca molto attento Su questa cosa Del non perdersi Oh ok Abbiamo un target Per il nostro fire impulse Gioca molto attento Sul fatto di non avere Di non farsi mangiare Caldron Bravo Very brave Beh questo lo prendo Sto dannino Ok Poi abbiamo impulse Per questo Che ce lo gestisce Un po' Etergast Per dopo Qua mangia gatto Riporta gatto Ci porta via Un po' di roba Noi poi facciamo Cruise No in realtà Non devo fare Auto heal Su questa cosa Perché è troppo forte Vai Dobbiamo cominciare A usare I nostri token Per fare Dei jump Blocchi Tra l'altro Ho fatto Questa terra blu Forse devo Farla rossa Sacco di trigger Sacco di trigger Ragazzi C'è una roba Sì C'è Tutti i token Bastardo Ci ho messo un sacco Per prendermeli Tutti Quei token Una Una Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Pesco Tre Solo per riportare Finisce Non so se è una scelta La madonna Però Vai Non attacco Neanche Guarda Prendo un danno in meno Perché Se no qua Ci muoio Dopo facciamo Shredder Intupi romante Deadly dispute Che palla Bella carta Deadly dispute Vorrei giocarla Anch'io Vorrei una shell Di grixis Fenici Dove si può giocare Deadly dispute E village rights Vorrei Vorrei Ok Allora Questa Non è male Però Noi vogliamo Fare questa E fargli sparire Questo Always Sealed Scarto Galvanic Terration Guarda Abbasso un po' La guardia Però In teoria Proponiamo un problema Dietro l'altro Sto turno 1,2,4 Ok Lui è tapped out Quindi può riportare Gatto Noi il prossimo turno Possiamo fare anche Una treasure cruise Da 80 Cominciamo ad attaccare Diamogli della pressione C'è sempre Gatto che comunque Ci rallenta Molto la race E noi però 8 per il cimitero 0 Questa cosa Un pochino Mi da Da pensare Forse Cacchio Cosa C'è Soulgate Lantern Soulgate Lantern Non sarebbe Fortissima Ago spinale Sarebbe una buona Carta Perché stoppando Witcheshoven Comunque lo rallenti Tanto Nella sua race Qua puoi riportare Gatto Se vuoi Però Sono tutte carte Subottimali Forse però La tavoletta È quello spot Di side Subottimale Per cui dici Si può anche Pensare di farlo L'unica qua È Fare più pressione Possibile Con shredder Mentre Proponiamo dei blocchi Con piromante Niente più shredder Niente più piromante È zio però Minchia Va bene Eh certo Prendo i danni Stappo pesco Io pago tre Poi ho Uno Due Tre Quattro E pesco sei Giusto Pago tre Pesco sei Perché non mi hai fatto saltare Perché vorrei farmi saltare i denti Ok Always yield Una terra Una terra rossa Eh no L'ho già fatta la terra Se lui è così tranquillo Non farmi saltare Il nostro simpatico Iampi romancer Io sono molto Molto meno tranquillo Di lui Mi sa che chiudiamo Un ottimo Tre due Sembra un brutto Make up se posso dire Si Eh si Siamo morti Perché qua Vado a otto Quando mangio Si si no Non è chiuso Ha chiuso Dovevamo avere in mano Un removal Per quel Per quel Mayhem Devil Peccato Peccatone Bell Bella league Però devo ammettere Mi è piaciuta molto Apriamo questa chest Giusto per simpatia E ci troviamo Un ottimo Ironcrag Feet Che ci ricorda Che ogni tanto Dovremmo giocare Belcher Poverino Perché si sente Un po' solo